Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 dei migliori trampolini elastici del 2021. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato il trampolino elastico Six Bross Six Jump. Il Six Bross Six Jump è un buon compromesso affinché tutti possano saltare in sicurezza. In effetti ha un telaio zincato a caldo senza cuciture. Di conseguenza beneficiano di una protezione senza paragoni. Avete quindi l'assicurazione che non vi siano alcuni danni alla struttura. Inoltre ogni molla di questo dispositivo è zincata e ognuna di esse è posizionata giudiziosamente intorno al tappeto. Il loro ruolo è quello di tenere la tela in posizione. Inoltre è protetta contro la corrosione. Per quanto riguarda il tappetino è un telone in PVC ed è impermeabile e robusto. Sarà in grado di assorbire bene le cadute. Inoltre la rete di sicurezza è di 180 centimetri e ha un ingresso che si chiude con una cerniera rinforzata. Così i tuoi figli potranno saltare senza alcuna paura. Come al solito su TopTech se vuoi ottenere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet vai alla descrizione di questo video. Avrai tutti i link cliccabili a tua disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato il trampolino elastico pieghevole di sappo. Il trampolino di sappo ha superato tutti i test per essere tra i migliori attualmente disponibili. Le 32 molle di questo dispositivo lo rendono ultra robusto. Possiedono una forma triangolare arrotondata e sicura. Questo trampolino offre elasticità e può supportare fino a 100 chili. Il tessuto di questo di sappo è molto resistente. Contribuisce in modo significativo a migliorare la durata di questo modello. A proposito, non è solo un trampolino per bambini, ma anche per adulti. Puoi quindi esercitarti o fare i tuoi mini esercizi sul trampolino, divertendoti. Tuttavia i bambini dovranno fare i loro salti sotto la supervisione degli adulti. Il suo piccolo svantaggio è che questo prodotto richiede più tempo per essere assemblato. Provalo e facci sapere la tua. Al secondo posto abbiamo selezionato il trampolino elastico da giardino Sport Plus 305 e 366 cm certificato. Realizzato in acciaio zincato, la Sport Plus 305 e 366 cm è molto resistente alla ruggine. Il suo setup da giardino ti permette di assemblarlo molto facilmente, per un divertimento ancora più rapido assicurato, grazie alle sue custodie, alle fasce elastiche che coprono le molle e le reti rivestite con imbottitura in schiuma, offre un ulteriore strato di sicurezza. Ciò consente ai bambini di saltare e giocare tutto il giorno senza alcuna paura. Inoltre le numerose superfici di questo trampolino sono state trattate con ioni di protezione UV, vista l'esposizione esterna. Ciò lo rende più resistente nel tempo. Insomma, potrai anche usarlo per mantenere la tua forma fisica quotidiana. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per te su internet, fai clic sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato il trampolino elastico da fitness Sport Plus pieghevole da 126 cm. Lo Sport Plus è il miglior trampolino in questo confronto. In effetti rafforza il corpo, l'equilibrio, le abilità motorie e la coordinazione. Praticando i tuoi esercizi su questo modello verranno sollecitati 400 muscoli. Inoltre le molle in gomma di questo prodotto hanno il ruolo di ammortizzare i salti. Ti aiutano con le articolazioni, donando una certa flessibilità. Inoltre la tela del trampolino è antiscivolo. Ciò ti offre un migliore supporto durante l'esercizio fisico, prevenendo le cadute. Lo Sport Plus pieghevole da 126 cm è estremamente silenzioso grazie ai suoi tensionatori. Possiede inoltre un rivestimento speciale, il che fornisce una protezione efficace per i piedi. Tuttavia, ciò che denotiamo è la difficoltà del suo assemblaggio quando si è soli. Non è facile infatti stringere i cavi. Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare clic sui link per ottenere tutte le specifiche più complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a scegliere, metti mi piace e iscriviti al canale Top Tech per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!